I carabinieri della Compagnia di Trapani, nel corso di un servizio straordinario di controllo alla circolazione stradale che vede in questi giorni e in particolare nelle ore serali un maggiore afflusso di persone verso il centro abitato di Trapani, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di Marsala e un 27enne trapanese per guida in stato di ebbrezza. Deferiti anche due giovani fratelli, uno dei quali minorenne, che a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un manganello e di un coltello. Infine denunciato un 21enne di erice fermato alla guida del proprio veicolo senza la patente mai conseguita e con recidiva specifica nel biennio. Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla prefettura di Trapani cinque giovani poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish.